C'è un aspetto raccapricciante in via Cesare Battisti, il fatto che le aree adibite a carico e scarico puntualmente sono occupate da auto di cittadini. Certamente dobbiamo strigliare chi si comporta in maniera tutt'altro che civile e tutt'altro che urbana, ma è la prova provata che questi cordoli non fanno altro che creare ulteriore disagio, perché il camion, il camioncino, il furgone che trasporta, che deve consegnare del materiale, dove lo consegna? Come fa a fermarsi dal momento che le aree adibite a carico e scarico sono quasi sempre, per non dire sempre, occupate? E allora in una situazione si fatta, aver messo il cordolo, aver messo i cordoli, significa veramente far impazzire coloro i quali devono scaricare la merce, far impazzire i negozianti che devono ricevere la merce e fare impazzire i cittadini che si trovano soprattutto nelle ore di punta il traffico, maledettamente e terribilmente congestionato. E allora prima di installare i cordoli si sarebbe dovuto fare uno studio della problematica, ma evidentemente vale la logica sic volo, sic iubeo, così voglio e così ordino. Tanto che poi i cittadini e i commercianti ci rimettano le penne e soprattutto vengano colpiti alla tasca, evidentemente all'amministrazione comunale non frega più di tanto.